La Regione Puglia, nell'ultimo quinquennio, ha dato tutti i soldi possibili e immaginabili, milioni di euro, alle associazioni temporanee di imprese capeggiate da un emittente locale barese. Tu sembravi Robin Hood, che rubavi ai ricchi per distribuire ai poveri, ma così non è stato. Passata l'illusione, sei sempre stato contraccambiato con un comportamento corretto, sempre, seguito passo passo come un governatore qualsiasi per cinque anni. Una telecamera sempre pronta a registrare i tuoi discorsi, le tue conferenze stampa, i tuoi appuntamenti politici, istituzionali, elettorali. E nonostante tutto, tu hai voluto calcolare un attacco politico a noi. Siamo tele-trama, la tele che trama contro di te, come se fossimo così forti da poter determinare le coscienze. E lo hai fatto fuori casa, anzi, scusami, lo hai fatto proprio a casa nostra, in quella piazza Santoronso in cui noi da bambini giocavamo a pallone, passeggiavamo con mamma e papà. Sei venuto da Bari ad offendere un patrimonio del Salento. E poi, il modo in cui lo hai fatto, attaccando la proprietà ed assolvendo i giornalisti. Scusami, Nichi, ma nessuno mi convincerà che questa videolettera avremmo dovuto renderla pubblica dopo il voto, perché tu hai attaccato la nostra squadra a poche ore dal voto e hai tentato di frantumare la nostra credibilità, che è la credibilità dei giornalisti, prima ancora che dell'editore e del direttore. Perché se fosse vero, e non è vero, che siamo stati comprati al punto da tramare contro di te con una regia del nostro editore e del direttore, stai denigrando, stai descrivendo Gomorra. E noi non siamo né Gomorra né, scusaci, la Puglia migliore. Noi siamo il grande Salento, il territorio di cui vai fiero, e che abbiamo fatto noi e tu te lo sei ritrovato. Un territorio bello, fiero, composto, orgoglioso, radicato su se stesso per essere aperto agli altri. Forse meriterebbe di essere una regione, se è vero, come è tristemente vero, che il presidente della Puglia, anzi, delle Puglie, offende la televisione che ha dato spazio a tutte le anime di questo territorio. Presidente Vendola, Nichi, la libertà non è star sopra un albero, la libertà è partecipazione. E io, che mi chiamo Mauro di nome e Giliberti di cognome, ti invito ad un dibattito pubblico, visto che di me pensi questo. Io ho molta stima per tutti i giornalisti. Telerama, come si sente in qualunque piazza, è percepita come un'emittente faziosa, di parte, schierata, anche con una capacità di manipolare le informazioni, ma non dipende da chi fa i servizi, magari li fa correttamente, dipende da come si costruiscono le scalette, da che spazio si dà gli uni agli altri. Credo che da questo punto di vista la critica che io sento in tutto il Salento a Telerama debba far riflettere chi la interpreta e la guida in quella maniera. O se non sono degno di un confronto con te, ti invito a chiedere scusa a tutte le persone che lavorano in questa televisione, che, lo diciamo da anni, è un'infrastruttura immateriale al servizio del territorio. La televisione locale è l'ultimo vero baluardo della democrazia e del confronto. Se tu oggi la offendi, domani, se puoi, la chiudi. Perché, a questo punto, è come se, o per farti un'idea forte passassi le giornate a guardare Telerama, oppure tu ti sia fidato del giudizio di quelle tre o quattro persone che imbarba alle tante cose che ci sarebbero da fare in università ormai lottizzata, o nei loro uffici stampa, trascorrono la loro giornata su Facebook a parlare male di chi lavora. E riceve, regolarmente, uno stipendio fra le mille difficoltà di un editore che, come tanti pugliesi, si aspettava la rivoluzione gentile e si è ritrovato nella normalità fredda e crudele del potere. Caro Niki, tu ci hai dato un ceffone in pieno volto ed è un ceffone immeritato perché l'hai dato al pluralismo, alla democrazia, alla libertà, alla salentinità, alla freschezza, alla giovinezza, al sogno di tutti noi, che è quello di vivere in una terra in cui nessuno, neanche per un attimo, abbia voglia di scappare per paura di essere castrato da presidenti e contropresidenti, superpresidenti e presidentissimi, onorevoli e onorabili che sono pronti a trasformarsi in temibili. Chi dichiara guerra di solito trova eserciti, corazzate e vendette, oppure rese incondizionate, invece no. Da noi, dai 120 ragazzi di Telerama e dal nostro editore, troverai correttezza e rispetto, comunque vada a finire. Però scusami Niki, comunque vada, abbiamo vissuto la tappa dell'insuccesso, perché gli uomini liberi moriranno liberi, indipendenti culturalmente e moralmente. Ma se li svegli così, mentre sognano di poter essere normali, un po' li hai uccisi, l'accusa di una trama è ingiusta, quella di una teletrama è un'offesa alla nostra intelligenza.